Matteo Salvini fa tappa a Pesaro presso l'hotel Charlie in Viale Trieste con un incontro dove, oltre a presentare il suo nuovo libro Controvento, coglie l'occasione per esprimere il suo sostegno ai candidati della Lega in corsa per l'Europa e per le amministrative del territorio, così come al candidato del centrodestra pesarese Marco Lanzi e al leghista Ser Filippi Nel Fanese. C'è voglia, molti ci riconoscono che sull'Europa siamo fra gli unici ad avere le idee chiare sul tema della sicurezza, del contratto all'immigrazione clandestina, sulla difesa delle auto, delle case, degli italiani, sul no assoluto all'ipotesi di von der Leyen, di alleanze con Macron, con i socialisti, con la sinistra. Conto che miglioreremo il risultato delle politiche del 2022 e nelle Marche conto che avremo diversi nuovi sindaci. Penso al sindaco di Fano, a Luca Ser Filippi che è in Gambissima e penso al fatto che ad Ascoli, oltre che a rivincere come centrodestra, puntiamo a essere il primo partito. Pesaro è una battaglia impegnativa, però noi non diamo mai nulla per perso e quindi io penso che il cambiamento arriverà prima o poi anche a Pesaro, magari è la volta buona. Il ministro delle infrastrutture poi si addentra nel panorama delle opere marchigiane per la viabilità, a partire dall'arretramento della ferrovia fino alla Guinza, passando per la A14. Finalmente le ferrovie ci stanno lavorando. Ci sono diverse ipotesi progettuali, ho dato questo mandato, questa indicazione. Lavorandoci insieme ai territori, perché in passato ci sono state polemiche anche all'interno del territorio marchigiano, fra sindaci, fra comuni, fra realtà locali, io penso che sia fondamentale, sia un intervento costoso ma assolutamente doveroso e utile. E a breve arriveranno diverse ipotesi progettuali su cui lavoreremo, ripeto, con i sindaci e su cui sceglieremo. È tanti anni che se ne parla, conto di mettere Nero su Bianco, un progetto così come da tanti anni si parlava della Guinza, adesso conto che non fra qualche mese, ma fra qualche giorno vengano consegnati alla ditta i lavori e quindi si parta perché le marche sono un territorio stupendo ma fragile, sia nell'interno che lungo la costa. Una parentesi viene aperta anche su come collegare al meglio Pesaro e Urbino, toccando anche i temi che riguardano l'entroterra ma soprattutto la costa, con una Bolkestein sempre più imminente. È uno dei dossier che con Mirko Carloni stiamo portando avanti, così come c'è il tema della costa di cui lei parlava, quindi il tema di assoluta attualità della Bolkestein, dei balneari, della tutela del lavoro dei balneari, della proposta di prelazione in caso di gare per chi gestisce le spiagge, soprattutto per le imprese familiari, quindi sono fiducioso.